Ed eccoci qui, incredibile, in un video abbastanza particolare. Infatti, come avete visto, si parte subito con il contenuto e neanche ho fatto l'entro, vero, sus? Ce ne siamo scordata, però, vabbè, è un video importante perché è bello, è triste, circa. E vado su questa parli che io sono agitato. Partiamo subito con la notizia incredibile. Ragazzi, questo è il nostro ultimo video. Ma che avete capito, l'ultimo video del Godverse 1.0, vero, sul suo? E beh, ragazzi, scusate col cazzo che smettiamo di fare video che abbiamo appena iniziato e non abbiamo ancora sfruttato il cameraman al massimo. Il vostro suspense con la sua grande testa. E' vero, su questa? Di tranquillare che cosa abbiamo in mente, cose incredibili, pazzesche e assurde. Però vogliamo fare questo minuscolo video per un attimo mettervi nella timeline giusta perché voi avete visto ultimamente dei video che sono stati registrati settimane fa. Come ormai saprete, vabbè, lo diciamo magari per la gente che non sa, incredibile, di tutte le cose che girano, come giro io, attorno al Godverse, vero, sus? Mamma mia, noi giriamo come dei matti, come il cameraman. Gira pure tu, cameraman. Ecco, giriamo tutti insieme. Come ormai saprete dal famoso video del Godverse 1.5 del dolcetto incredibile cinese, noi siamo alla ricerca, ormai da mesi, di un luogo incredibile per evolvere il nostro canale incredibile allo step successivo. E giustamente negli ultimi video noi avevamo accennato a questo argomento, però erano registrati un po' di tempo fa. Quindi voi non sapete che sono successe delle cose incredibili, tipo che non abbiamo trovato niente. Eh sì, lo so ragazzi, vi aspettavate un colpo di cena positivo, ma purtroppo questo è un periodo triste. Vero, cameraman? Beh, in realtà, dai, si può dire una notizia forse positiva. Sus, che dici? Vabbè, dai, un minimo di felicità è questo periodo triste. Va bene, ragazzi, va bene. Allora, c'è una possibilità. Diciamo che abbiamo forse un barlume di speranza per Godverse 1.5 e c'è. Però è molto complicato. Quindi ragazzi, purtroppo inizia ufficialmente il periodo in cui il canale va purtroppo in stop, ufficiale da questo video in poi, perché ci siamo resi conto che noi avevamo provato a registrare qualche altro video, ma sono venuti dei video di merda, perché siamo nervosi, agitati, e abbiamo un sacco di cose per la testa, per quanto riguarda la possibilità di evolvere il canale incredibile. Questo video, ragazzi, speriamo sia di buono auspicio a Godverse 1.5, all'incredibile evoluzione di questo canale assurdo, pazzesco, incredibile. Vero, Sus? Esatto. Vero, cameraman? Speriamo. Abbiamo una possibilità. Cercheremo di sfruttarla al massimo per vedere se si può fare, perché magari, per carità, ci rivediamo tra un po' di tempo e stiamo sempre in questo incredibile stage grosso quanto due, tre Sus. Vabbè, sono un po' più grande di questo spazio. Vabbè, quattro Sus e mezza, comunque ci siamo capiti. Noi che cosa vi possiamo dire? Speriamo che questo video sia di buono auspicio, noi vi auguriamo, godetevi agosto, che noi non ci siamo goduti niente di quest'estate, come sempre, perché noi nel Godverse siamo abituati a far bisbocce. Vero Sus? Termine molto, molto di sua maestà, bisbocce vuol dire stare al mare, ecco. Con tante belle cose, ecco. E ci siamo capiti, ecco. Il vostro schedo era abituato a fare balletti incredibili in spiaggia, con Sus e tutta la nostra Criune, il Godverse. Poi siamo arrivati qui e la prima estate è un'estate di merda. Comunque speriamo almeno di evolvere il canale incredibile. Noi non sappiamo quando torneremo. Per quanto riguarda l'evoluzione del canale, noi ci stiamo provando da fine maggio. Tutto giugno, tutto luglio, non è andata molto bene. Adesso forse c'è una speranza, però dobbiamo concentrarci al massimo su quella. Quindi non riusciamo a fare contenuti per niente. Perché volevamo fare un sacco di video. Però, ripeto, non sono possibili. Ne avevamo fatto uno, che abbiamo cancellato perché è venuto male. Non siamo in noi al massimo e quel video è una merda. E poi, non so se avete notato, non riusciamo neanche a contattarci con Benito Guglielmo e Cameron numero 2, che dire che pure lui è sotto stress e poco ve lo susse. E lasciamo perdere, va? Potevamo fare dei contenuti male, non ci riusciamo, ci dà troppo fastidio. Perché noi ci teniamo ai nostri contenuti. Vi auguriamo buona estate. Salutiamo Godovers 1.0 in maniera positiva, perché magari poi, ripeto, ci rivediamo tra un po' di tempo, arriviamo esattamente qui e io comincerò a sbattere la testa sul tavolo come fa il Cameron al muro. Che poi, in realtà, questo video sembra che stiamo per crepare tutti. Insomma, tocchiamoci tutti, vero susse? Tocchiamo ferro. No, ragazzi, tranquillo. Non è che non è la fine. Dove essere l'inizio della fine. Vabbè, citazione, lasciate. Comunque, noi vi ringraziamo per questi sette mesi, per tutte le persone che hanno sostenuto cliccando un video, mettendo qualche volta mi piace. Noi ringraziamo ufficialmente, sperando, ripeto, che Godovers 1.5 si possa fare, perché altrimenti ci rivediamo qui e questo video non ha senso. Però noi siamo positivi, circa. Quindi, noi ringraziamo Godovers 1.0 in questa postazione, che ovviamente ogni tanto rivedrete, però, ripeto, noi cercheremo di fare nella nuova postazione, perché altrimenti non possiamo fare tutte le nostre idee incredibili. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, perché, ripeto, ci sono un sacco di cose, non avete idea che cosa succederà, quindi mettete mi piace, iscrivetevi, e avete voglia di recuperare, quindi non si sa quando torneremo, saranno settimane, mesi, non lo sappiamo. Però, ripeto, quando attivate la notifica, quando vedrete Godovers 1.5, state tranquilli, perché la nuova era del canale sta per iniziare e non avete idea delle cose che abbiamo in mente. Quindi tranquilli che non avete idea, vero Suss? Mamma mia, mi sono caricato di hype che non avete idea. Vosus Suss, vola! No, 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 non facciamo volare i Suss che poi sono pericolosi. Vosso Schedo, vi saluta, Suss, saluta, wow! Salve a tutti ragazzi e che il Godo sia con voi e ci vediamo presto. Speriamo in Godovers 1.5, altrimenti ci ripetiamo qui tra un po' di tempo tristi e disperati. Speriamo di nuovo, insomma, un po' di positività. Cameron saluta e grazie a tutti di aver sostenuto il canale fino adesso e ci vediamo, speriamo, nell'evoluzione del canale. Ecco, sentito pure il Cameron oggi saluta, ci vediamo prossimamente con l'evoluzione ufficiale del nostro canale oppure ci ripetiamo nella tristezza di questo posto in canale. Taglio incredibile, buona estate e alla prossima! Sono un po' triste però che non possiamo più fare video per un po'. Suss, non abbiamo scelta, ci dobbiamo concentrare in questa cosa per l'evoluzione del canale incredibile, vedi, pure il Cameron me lo dice. Comunque, sei riuscito a contattare gli altri. Sono spariti tutti da quando abbiamo fatto lo scontro a Codomenia. Venite, Guglielmo, è camera numero due, boh! Comunque, nel dubbio ho mandato le possibili nuove coordinate di Codverse 1.5 a tutti quanti. Ecco, speriamo che, insomma, arrivino a tutti quanti. Vedi come, voi dite, non te bravo, Suss, Suss, fa anche da segretario incredibile. Voi dite, bravo di te Cameron. E niente, ok, speriamo che arrivi a tutti quanti. E beh, sì, insomma, e poi, per carità, se va tutto male è inutile, però intanto ho informato tutti di dove ci sposteremo per Codverse 1.5. Mi ha legato pure a Krauss che ho di no. A tutti quanti, insomma, si deve fidare del vostro Suss, incredibile. Va bene, ci finiamo, Suss, un ugo. Quanto è bravo, Suss. Incredibile, Suss. Tereo. Gnam, 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 E' un miracolo che l'abbista sia stato in grado di controllare le loro menti. E' incredibile, sicuramente Fuss starà facendo le tessere cose con quegli altri coglioni. E' veramente un miracolo e dopo tutto c'è un motivo se sono il King e il Vice del God of Us. Ci vedremo presto. Hail to the King. Hail to the King. Hail to the King.